Salve a tutti amici di Marcosbox e benvenuti in questa nuova puntata di 4 chiacchiere all'interno del mondo open source. La puntata di quest'oggi è una puntata dedicata ai consigli per la lettura. Ho pensato, visto che ci stanno avvicinando le feste in Antalya e che quindi avremo più tempo da dedicare le nostre passioni, qual è la migliore occasione che è dedicarci alla lettura di alcuni brevi saggi che descrivono la nascita del software libero per meglio conoscere appunto quello che noi tutti utilizziamo, cioè il Linux e i software liberi in generale. Quattro sono i ghibi che ho selezionato e sono quattro ghibi che sono disponibili gratuitamente, quindi questi sono consigli a costo zero. Nel post che troverete sul blog troverete anche i link per poterli scaricare o leggerli online. Cominciamo. Il primo libro di cui voglio parlare è Codice Libero, sottotitolo Richard Stallman e la crociata per il software libero. È un saggio biografia scritto da Sam Williams che racconta la storia di Richard Stallman, il nostro guru del software libero. Ripercorre appunto il pensiero di Richard Stallman, ripercorre le tappe che hanno portato alla nascita del software libero e tutte le dinamiche connesse. Si legge molto facilmente, quindi consiglio a tutti quanti di iniziare da questo libro perché, diciamo, non è tanto tecnico e quindi potrebbe... non risulta pesante. Gli altri due libri di Richard Stallman, che sono scritti proprio da Richard Stallman, che voglio segnalarvi, sono Soft Libero Pensiero Libero. Soft Libero Pensiero Libero è una raccolta di saggi scritti appunto da Richard Stallman, anche questi disponibili gratuitamente. E' suddivisi in due volumi, il volume primo e il volume secondo. Nel primo volume Richard Stallman si sofferma sulle dinamiche più attuali della grada digitale, le quali ad esempio l'etica, la legge, il business che c'è attorno al software. Vengono analizzati anche i concetti come gli abusi del copyright, oppure la necessità della creazione del copyright. Il secondo saggio è un po' più tecnico e si dedica principalmente a parlare dei sviluppi futuri dell'informatica e della tecnologia e delle licenze. Viene analizzata la New Public License, quindi con tutti gli annessi e connessi. L'ultimo libro che vi voglio segnalare è un libro molto importante. Perché è importante questo libro? Perché è stato la base di, è stata una Bibbia di moltissimi programmatori del Soft Libero. Il titolo del libro è La Cattedrale e il Bazar. La Cattedrale e il Bazar è un saggio scritto da Eric Raymond. Eric Raymond analizza le dinamiche che hanno portato alla nascita del kernel Linux. L'autore per verificare le sue teorie che cosa fa? Decide di utilizzare lo sviluppo collaborativo per la stesura del suo programma FetchMill. Nel saggio viene analizzata la genesi di questo software, lo sviluppo del progetto, analizzando le varie interazioni tra i programmatori, interazioni che si possono avere solamente se il codice del programma è libero. Quindi viene dato ad altre persone, quindi queste persone lo analizzano, lo migliorano, segnalano bug. Questo è molto famoso, questo libro, perché in questo libro viene introdotto il cosiddetto concetto della Cattedrale e il Bazar. Andate a loro leggere, non vi anticipo nulla. Io adoro personalmente questo libro, quindi leggetelo, capirete tante cose dello sviluppo del software libero, capirete l'importanza del software libero. Bene, con questo concluso ne approfitto per farvi gli auguri di buone feste, per chi ci crede o chi non ci crede, comunque starete a casa, non ci ho parte di voi. Ci si sente per una prossima recensione. Ciao ciao, alla prossima! Come si stoppa? Non mi ricordo più. Ah, eccolo. Ciao! No, 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 no Grazie a tutti.